Buona festa della donna, oggi è l'8 marzo, si regalano le mimose, oggi ho visto molti uomini comprare mimose per le donne, che carino! Io non posso ricevere questo fiore perché sono allergica? Mannaggia! Vi posso presentare però un altro fiore veramente misterioso, è il fiore Udonbara. Il suo nome significa fiore bene a grande dal cielo, è molto piccolo e di colore bianco purtissimo. Secondo la traduzione buddista, fiorisce ogni 3.000 anni quando appare un re nel mondo che salva le persone. Può nascere ovunque, sulla plastica, sul legno, in terra, sullo specchio eccetera. Ma anche in condizioni estreme, sia di caldo che di freddo. Sarebbe bello veramente uno perché avrebbe un bel significato per tutti noi e per me magari farmi incontrare Gesù Cristo o Buddha. Quindi ora comincio a cercarli perché come dice il proverbio. Che c'è il ca? Trova? Bene ragazzi, vi metto il link sotto. Alla prossima volta, さようなら! grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti